Buonasera e buon Natale dal Tg3. Viaggio del Tg3 nell'Italia a rischio inquinamento oggi in Basilicata dove sta per cominciare il processo per le scorie tossiche e resta il timore per le emissioni. L'inchiesta del Tg3 sull'Italia a rischio inquinamento dopo Seveso facciamo tappa in Basilicata dove stanno per andare a processo dirigenti che avrebbero ordinato lo scarico di scorie tossiche e le emissioni pericolose fanno ancora paura. Da Vigiano l'inviato Paolo Piras. La nube nera esce all'improvviso dalla ciminiera del centro oli di Vigiano filmata dagli stessi operai fuggiti dallo stabilimento. Al vedere queste immagini gli abitanti hanno di nuovo i brividi. In questi anni abbiamo assistito di tutto a fiammate, fumo nero, boati, scoppi di tutto. Eppure è qui in Lucania il cuore del cosiddetto Texas d'Italia nell'impianto Eni costruito dentro il paese di Vigiano e da qui sarebbe partito un inquinamento dell'aria e del suolo per il quale i carabinieri hanno arrestato sei tra funzionari e dipendenti del centro. L'accusa per loro è di avere truccato i codici dei rifiuti liquidi pompati nel suolo e per gli allora responsabili dell'ARPA Basilicata di aver ignorato i valori fuori legge e tutto sarebbe cominciato quando l'impianto Eni viene sfruttato allo spasimo e quasi raddoppia i barili estratti. Sostanzialmente a partire dal 2011 quando l'impianto viene autorizzato a incrementare il livello di produzione in termini di olio trattato. Ora l'Eni ha cacciato gli incriminati e corretto la linea produttiva ma la paura qui resta anche se le royalty hanno arricchito questi comuni e molti campano dell'indotto come questo ristorante che stava per chiudere quando il centro oli era sotto sequestro. Il titolare aveva pensato di mettere in casa integrazione noi dipendenti e quindi devo accettare quello che mi offre la zona. Per Gian Battista Mele, medico, la battaglia va oltre il fumo nero e si estende a cambiare le regole stesse. Le leggi italiane infatti concedono margini generosi rispetto agli standard mondiali e il timore è che si scoprano i danni alla salute solo quando sarà troppo tardi. Se parliamo dell'acido solfidrico che è uno dei gas più velenosi che esistono in natura se andiamo a fare il confronto tra i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e i valori stabiliti dalla legge italiana questi sono circa 3.000 volte superiori e ora conteremo solo i morti. Noi dobbiamo evitare quelli futuri. È tutto per questa edizione. Torniamo alle 23.55 con TG3 nel mondo. Grazie per averci seguito e ancora. Buon Natale.